Il centro dell'impiego, la fotografia è il centro dell'impiego con la seranda abbassata. Cioè loro il lavoro ce l'hanno e delle difficoltà dei giovani o della possibilità di trovare, non solo i giovani, anche i 40-50 anni, non gliene frega niente a nessuno. E questa è la realtà drammatica. Per cui qualcuno ha avuto un anno e mezzo di lavoro e l'ha sfangata, ma sono Cococò, dicevo prima, che nessuno con un anno e mezzo di lavoro dedicherà la vita per trovare un lavoro o un altro. Lo cerca se stesso, perché lui è il primo precario. Per cui la sordità di far cercare il lavoro per gli altri, da un precario che ha bisogno di trovarlo per primo, è una follia totale, una contraddizione in termine. Ma in più lavora in un posto che tiene chiuso in una regione come quella siciliana, che ha degli indici di disoccupazione bestiale. E' certo che quello è il primo fallimento dello Stato. Pensate a un giovane che si è laureato, ha fatto un percorso e arriva e trova chiuso. Non è che non trova lavoro, trova chiuso, non trova neanche la disponibilità di persone che sono pagate per fare quello e per aiutarlo. Per cui questa vicenda è il simbolo di perché questo paese è destinato a morire. Allora mi spieghi di cosa servono loro, i navigator. Ma loro in teoria, in teoria, no, innestati in un sistema così non servono a nulla. Servono a dare a 3.000 persone, giovani magari bravi come lui, uno stipendio per un anno e mezzo. Ma innestati in un sistema così, ha ragione Peter. Quando in altri paesi sono 50.000 persone efficienti, hanno i sistemi di formazione, di informazione. Così non servono a niente. Lenzi, lei come lavora?